La polizia di Fano ha portato a termine altre due importanti operazioni. Gli agenti, coordinati dal dirigente Stefano Seretti, hanno sgominato due bande distinte tra loro. La prima, composta da padre, madre, figlia e figlio minorenne, era solita colpire nel centro Italia ed era specializzata in furti, nelle case e nelle attività ricettive come alberghi e bed and breakfast. Nei mesi scorsi avevano messo a segno un colpo in un hotel del centro storico di Fano. Mentre i genitori facevano da palo, i due giovani, forzando la porta di una dependanza, si erano introdotti in due alloggi in cui pernottavano turisti. Avevano rubato in totale 1.500 euro in contanti, orologi e monili in oro, più due valigie di marca del valore di 5.000 euro. La famiglia croata, residente nel Lazio, è stata individuata dalla polizia anche grazie alle telecamere installate dal comune. È stata affermata in provincia di Frosinone. L'accusa per i quattro è di furto aggravato in concorso. La ragazza, di 20 anni, ora si trova agli arresti domiciliari, mentre i tre familiari sono stati denunciati a piede libero. La seconda banda, invece, composta da due uomini di 45-50 anni già noti alle forze dell'ordine, era specializzata in furti nei supermercati. A Fano erano entrati in azione a fine 2019 alla Coppe di Via Pertini e alla Conad di Sant'Orso. Nel primo esercizio avevano rubato liquori, spumanti, champagne e superalcolici per un valore di 800 euro, mentre nel secondo un prosciutto, 10 pezzi di parmigiano, altri formaggi, olio extravergine d'oliva e vari alimenti per un totale di 500 euro. Il modus operandi, invece, era sempre lo stesso. Toglievano le etichette antitaccheggio, le nascondevano tra gli scaffali e mettevano la merce in un carrello. Poi, mentre un complice distraeva la cassiera, l'altro riusciva a uscire indisturbato. Quando i dipendenti se ne accorgevano, era ormai troppo tardi. Anche in questo caso per la polizia di Fano sono state fondamentali le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza. I due, uno bosniaco e l'altro algerino, sono stati rintracciati nel riminese e denunciati a piede libero.